Quali sono i sintomi dell'infezione del lievito orale? Le infezioni dal lievito orale sono causate da un fungo molto comune chiamato Candida albicans, lo stesso fungo responsabile delle infezioni vaginali del lievito. Candida giace dormiente nelle bocche e nelle gole della maggior parte delle persone senza causare infezioni. Se il sistema immunitario è indebolito da malattie, cancro o farmaci, tuttavia, i funghi possono attivarsi e causare una serie di sintomi fastidiosi. I sintomi più comuni dell'infezione del lievito orale comprendono lesioni bianche o gialle sulle guance e sulla lingua interne, dolore e tenerezza, difficoltà a deglutire e perdita del gusto. I probiotici e i farmaci antifungini possono in genere chiarire i sintomi dell'infezione del lievito orale in circa due settimane. I bambini sono a più alto rischio di sviluppare infezioni del lievito orale poiché il loro sistema immunitario non è abbastanza forte da combattere il fungo. Anche i bambini più grandi, gli adolescenti e gli adulti che presentano disturbi del sistema immunitario come il virus dell'immunodeficienza umana o il cancro possono sviluppare infezioni. Occasionalmente, un individuo altrimenti sano può sperimentare una lieve infezione. I sintomi dell'infezione del lievito orale sono simili nella maggior parte dei casi. I primi sintomi di infezione da lievito orale includono tipicamente piaghe cremose e dolori sordi in bocca. Le lesioni possono svilupparsi sulla lingua, sulle guance, sulle gengive o sul tetto della bocca. Di solito sono piccoli, meno di 0,5 pollici, circa 1,25 centimetri, di diametro ruvidi al tatto. Le piaghe da bocca possono essere molto tenere e sanguinare facilmente quando sono irritate dalla lingua, dallo spazzolino da denti o dal cibo. Alcuni bambini e anziani hanno difficoltà a deglutire e parlare a causa del dolore costante. Ulteriori sintomi di infezione da lievito orale possono includere papille gustative desensibilizzate, secchezza delle fauce e cricche intorno agli angoli delle labbra. Alcuni pazienti riferiscono una sensazione simile al cotone nelle loro bocche a causa della secchezza e dell'irritazione. La perdita di appetito e le conseguenti carenze nutrizionali possono verificarsi quando una persona non può gustare il cibo e sperimenta dolorose deglutizioni. Senza trattamento, candida albicans può iniziare a diffondersi dalla bocca all'esofago. Una gola infetta può sviluppare lesioni simili a quelle che si trovano in bocca e causare gravi difficoltà di deglutizione. È anche possibile che i funghi si diffondano nell'apparato digerente nei polmoni in persone con un sistema immunitario molto debole, che può causare mancanza di respiro, pressione alta e molti altri sintomi gravi. Un medico può diagnosticare un'infezione da lievito valutando la comparsa di lesioni e testando campioni di muco per la presenza di candida. I pazienti che sono relativamente in buona salute possono essere istruiti a sciacquarsi la bocca con acqua salata tiepida e a mangiare yogurt probiotico per alcuni giorni fino a quando i sintomi migliorano. Un farmaco antifungino orale può anche essere prescritto per i bambini e le persone con sistema immunitario debole.